Per tutti coloro che credevano che l'edizione 2018 di Olimparty non si sarebbe tenuta vittime del comunicato da 1 aprile sulla pagina ufficiale della manifestazione che annunciava difficoltà tecnico-organizzative, niente paura. Non solo Olimparty si farà, ma giudicare dal video promozionale è tutto ben programmato perché sia un successo. Dal 1 al 4 agosto a Lido Spiaggia d'Oro di Mortelle, la mega convention di musica e sport torna per il settimo anno consecutivo. L'associazione Mediterranei Eventi, organizzatrice dell'evento, si è già attivata per offrire un'edizione che sia sempre più social tramite canali Facebook e Instagram e YouTube, già attivi per non perdere nessun aggiornamento. 4 giorni, 20 discipline, musica, spettacoli, divertimento e soprattutto tanto sport. Ma la grande novità dell'estate 2018 è che la convention farà le valigie per oltrepassare lo stretto. Il 24 e 25 agosto, infatti, la tenacia dei giovani organizzatori messinesi incontrerà quella dei loro coetanei calabresi, ugualmente decisi a valorizzare il proprio territorio e che credono nel mondo dello sport in tutte le sue sfaccettature, dallo sport puro al turismo sportivo. L'Olimparty, quindi, esporterà il proprio format al Sunset Beach Club della Tonnara di Palmi, dove si svolgeranno nuove tornei sportivi e tante altre attività extra. Un format, dunque, che dopo sette anni non solo si è consolidato, ma è addirittura esportabile. Come precisa il presidente di Mediterranei Eventi, Alfredo Finanze, il successo delle passate edizioni, la grande partecipazione, la costante crescita e la dimostrazione che Messina è viva e le idee possono funzionare e diventare realtà.